Buonasera e benvenuti su TG News TV. Questa sera ci troviamo a Valle Saccarda in compagnia del neosindaco eletto Franco Archidiacono, che salutiamo e gli facciamo le congratulazioni del TG News TV. Una campagna elettorale combattuta, ti aspettavi una vittoria così schiacciante con 200 voti di scarto? La vittoria è stata esaltante, i 202 voti di scarto sono ovviamente un traguardo inaspettato, ma sicuramente ci condizionano moltissimo sulla responsabilità e sulle tante cose che appunto come amministrazione, come giovane amministrazione dovremmo fare nei prossimi anni. Quale sarà il primo progetto che farà Franco Archidiacono? Franco Archidiacono non farà nessun progetto, i progetti saranno dell'amministrazione, saranno dell'aggiunta di tutti i consiglieri comunali. Come abbiamo detto in campagna elettorale ci saranno tanti piccoli progetti importanti, quello sicuramente più importante è quello della piscina comunale. Abbiamo già individuato l'aria, c'era già un progetto di dieci anni fa come studio di fattibilità già redatto e partiremo da quel progetto affinché appunto poi nei mesi successivi arriveremo a un progetto esecutivo e quindi poi una richiesta di finanziamento a livello regionale o governativo o anche alla comunità europea. La Baronia è con voi su questo progetto? Sì, sì, ho già sentito gli altri sindaci e devo dire che ci è stata già una prima sintonia con tutti i sindaci della Baronia in cui appunto abbiamo già pensato a quali sono gli altri progetti infrastrutturali importanti per il territorio e hanno riconosciuto la centralità di Valle Saccarda da un punto di vista dello sport e appunto dell'agonismo, qual è in questo caso del nuoto e quindi sicuramente Valle Saccarda insieme agli altri paesi della Baronia candideranno questo progetto alla Regione Campania. Cosa cambierà Valle Saccarda con la nuova amministrazione comunale? Ma che dire, sicuramente la trasparenza è un agire con molta serenità, questo mi sento di dire. Poi ci sarà sicuramente una ricerca di quello che è la continuità amministrativa perché non è possibile immaginare che quello che è stato fatto nel passato non sia completamente totalmente fatto bene, anzi le cose positive saranno rimarcate, saranno portate avanti, le cose che questa maggioranza penserà e individuerà verso una svolta e verso appunto un cambiamento saranno ovviamente vagliate con molta serenità. L'importante è che appunto Valle Saccarda cresca nella Baronia, cresca nei cittadini e insieme a loro ovviamente tutta l'amministrazione comunale. La nuova giunta sarà collaborativa con la minoranza consigliare su eventuali proposte o progetti? Assolutamente sì, anzi colgo l'occasione per ricordare a tutti che il 13 giugno c'è l'insediamento del Consiglio Comunale, c'è l'approvazione delle linee programmatiche di indirizzo. Ci piacerebbe appunto che anche la minoranza partecipa alla discussione sulle linee programmatiche e perché no recepirle facendoli diventare un unico programma attuativo per i prossimi cinque anni della vita amministrativa. Comunque sia la maggioranza e come dire come ho sempre detto il Comune, le porte del Comune sono aperte a tutti i cittadini e quindi sicuramente anzi maggiormente alla minoranza consigliare per qualsiasi contributo e collaborazione che ci viene richiesta o che in qualche modo vuole essere data alla maggioranza. La settimana scorsa l'amministrazione di Vallata ha invitato i sindaci della Baronia per parlare dell'Unione dei Comuni. Che ne pensa di Vallata come sede dell'Unione? Vallata è il comune più grande della Baronia, ha più abitanti, ha più infrastrutture, ha più scuole, c'è il distretto sanitario, c'è l'antenna sociale. Penso che Vallata è anche come dire geograficamente un po' il fulcro degli otto paesi a corona del territorio omogeneo della Baronia. Penso che Vallata possa essere la sede ideale, una giusta sede, ha gli spazi, ha una buona amministrazione e quindi penso che sia la scelta migliore. Chiudiamo questa intervista con un saluto di Franco Archidiacono alla popolazione di Valle Saccarda. Grazie di cuore a tutti i cittadini per averci seguito con tanto entusiasmo in questa campagna elettorale. Questo ovviamente è un saluto rivolto ai sostenitori di Liberamente, ma il saluto da sindaco è rivolto a tutti i cittadini affinché ci sia la maggiore collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini stessi di Valle Saccarda e sapere che senza di loro l'amministrazione non può assolutamente amministrare bene. Quindi ogni suggerimento, ogni segnale di collaborazione deve essere portato nella casa comunale, elaborata, fatta sintesi e dopodiché ovviamente con l'aggiunta e con il Consiglio Comunale si aggirà per il meglio di tutti. Ringraziamo Franco Archidiaco, noi rinnoviamo il nostro in bocca al lupo a lui e a tutta la compagine di Liberamente.